Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale, indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 2002, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2024 numero 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria di giustizia civile e penale di personale del Ministero della Giustizia. La votazione è aperta. Colleghi, rientrate rapidamente. Scrippa, Pella, Pittali, Squeri, Dattis. Sbagliato. Bene, Squeri, Pella. Pella votato, Squeri anche, Roggiani. Ha votato, ha votato tutti, la votazione è chiusa. Presenti 243, votanti 242, assenuti 1, favore di 153, contrario di 89, la Camera approva. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Deborah Serracchiani, a facoltà, prego.